Ehi la, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories Nello scorso video non è che sia successo poi granché, dato che c'è stata una semplice lotta contro una specie di boss, ma non è neanche un vero boss Però i nostri amici, Livia e Sheval, se ne sono andati per le loro rispettive strade, il che è giusto così Inoltre ho fatto schiudere anche qualche altro uovo E beh, insomma, non è che la squadra sia proprio malvagia, abbiamo due veloci drome, ok? Beh, veloci drome, è un po' così, però abbiamo l'Arzuros, lo Yan Kutku, che non è male affatto Ora, dove bisogna andare? Bisogna andare sempre che ho il villaggio Hakum, però... Ah, questi qua hanno delle richieste, non mi convincono molto Questo vuole un uovo di erbivoro, mi dà la spada difesa E questo vuole 5 uccidi, 5 buffangolo, uccidi, va! Ammazza tutti, va bene, magari più tardi lo farò All'ogni modo... Dove bisogna andare qui? Però abbiamo sempre Dan, che ha altre missioni per noi Sai, sono preoccupato anche per Sheval, che ha lasciato il villaggio all'improvviso Ho del lavoro da fare Hai del lavoro da fare, non sarai mai un grande rider se poltrisci tutto il giorno Vabbè, non è che ho poltrito, comunque Devo spiegare altri rider, va bene! Ottimo, combattiamo contro Dan! Tenente Dan! E' meglio per informarti che le battaglie tra rider hanno regole speciali Tieni d'occhio i cuori Se tu e il tuo mosti finirete al tappeto, perderete un cuore Sì, purtroppo vi è già successo La prima squadra che perde tutti i cuori, perde la sfida Intanto seleziona attacca, contro l'upto not, velocità, non lo so Non puoi attaccare il rider in modo diretto Puoi anche usare gli oggetti, scambiare i mosti e fare tantissime altre cose Proviamo allora Usa potenza, neve velocità, doppio stacco, ottimo Wow, 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 quasi shottato Oh no! Ma fa anche la capriola Ma che avversario fantastico! Premia, eh, amico mio Ma tu che ne sai di premere? Io mi sono allenato con Dragon Ball Budokai Tenkashi che dovevo girare l'analogico pur di vincere Ma che ne sai tu? Allora, è tornato in piedi Non possiamo attaccare il rider? A seconda della situazione il tuo nemico può cambiare i mosti Sì, il Velocidrome è qui, yeah, che bello Oh, era la combo quella, sì Vai, palla di fuoco Allora, il mio monster può attaccare il rider Abbiamo abilità legame No, contro il Velocidrome ci vuole Ma tecnica, perché è veloce? Allora non è veloce, è potento Drome Però aspetta! Loro hanno perso entrambi il cuore Quindi Quando si combatte contro un ranger Ah, forse perché l'altra volta ho perso una volta io, una volta il monster Quindi ce l'ha contati diversamente perché erano battaglie diverse, forse Quindi li contai entrambi Va bene Andiamo a velocità per due, scusami, eh In sella, vai E... Che fa lui? No, posso... Ah, quindi ora posso attaccare anche il Tenente Dunn lì Va bene Non è colpo rapido, va bene No, quello ci vuole la velocità allora Contrattere... Ah, dai allora Eh, vabbè, ma amico mio Ah, scusami, eh No Abilità legame Eh, amico mio, ti attacchi ora Eh, beh Vai, ingoia questi e sputa lì Testata e via Un punto per noi socio Quindi io parlo Il gioco io Canonicamente parlo Ma finalmente l'eroe che parla Anche perché l'eroe che non parla è una cosa che andava bene vent'anni fa Ormai è finita Cioè, parlate per favore Grandioso, stai facendo ottimi progressi Ora puoi partecipare Ah, 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 ah Le battaglie in rete Eh, non credo proprio Senti anche tu di essere migliorato, vero? Direi che è ora di un altro test C'è un mostro chiamato il veterano Uh, questo mi piace il nome È alla miniera abbandonata Gli abitanti sono troppo imporiti per avvicinarsi Quindi devo andare Eh, devo andare su questo Yankutku impazzito? Ok Dovrei svolgere un'indagine sullo Yankutku Dirgite alla miniera abbandonata Nella sezione rocciosa delle colline di Pondri Va bene, ricordo di equipaggiare questo Talismanno resistenza al fuoco Ah, pozione per die Bello Negli accessori Talismanno resistenza a fuoco P1, bene Sto anche controllando più spesso Gli oggetti che vendono gli abitanti E anche come potenziare le armi Per il momento non ho abbastanza materiali Quindi devo andare in giro A raccogliere i materiali Allora, ho ancora 14 minuti Dell'altro effetto Quindi direi di andare subitissimo A provare a sconfiggere Insomma Questo Yankutku Anche se dubito Che si troverà facilmente Ah, però ci indica anche il luogo delle missioni secondarie Ma io farei anche la missione secondaria Allora, dai, così l'episodio Insomma È bello corposo Devo sconfiggere 5 bullfango Raccogliere delle uova E sconfiggere un Un mostro Salterino, com'era? Un mostro strano A parte posso vedere qua nelle missioni Eccolo qua Cos'è? L'astuto rapace Ok A parte che A parte che Devo recuperare Un uovo Di Mostro erbivoro Quindi andiamo in una In una tana Recuperiamo questo uovo di mostro Erbivoros E poi Ce ne andiamo Ah, perché mi ha visto Quindi è attratto da me Ok No, credi amico Non sono un bel vedere Questo uovo di erbivoro No Cerca ancora, caro Mi pare che è questo Il uovo di erbivoro? Non vorrei sbagliare Uomo umbile erbivoro Oh Allora No, io devo andare Quassù Ma io non posso arrampicarmi Qua ancora Giusto? Piccona, piccona Ah no Questa è una tana Tana, mostro raro Uh, subito Ah, ci sono anche le ragnateve Da raccogliere Il primo problema è che Questa telecamera Fa davvero schifo Chissà che tipo di mostro C'è da sconfiggere Qui a guardia dell'uovo Possibile che non ci sia niente A guardia dell'uovo? Oppure è quello che fa il trappolozzo? È quello che fa il trappolozzo Quando prendi l'uovo? Mmm Vabbè Vediamo un po' Dai, che prendiamo? Ehm No Cambiamo Ok Mi piace ma Prendo Scelgo ancora un altro Un altro ancora Mi piace questo colore Io Non so se effettivamente I colori delle uova Sì Da quello che ho capito I colori delle uova Indicano Il colore e il pattern Indicano Ehm Quale mostro può uscire Ma È sempre così? Oppure È un po' a caso? Rovente W rap Vabbè sì Non so Ora tutte quante le diciture esatte Ma comunque Aha Questo è il veloci drame Da sconfiggere Buono L'astuto rapace Doppio attacco Ah ma è forte lui Perché però Me lo segna come un mostro Diverso Non è sempre Veloci drame Che strano Eh amico Io te l'ho già detto Questo è più forte Che strano Però allora Devo dire che lo Yang Tutku È intelligente Perché almeno fa l'attacco tecnica Oh vabbè Io lì stavo carico Vabbè Non imposto Lo Yang Tutku per il momento Mi sembra uno dei mostri Più forti del gioco Ad ogni modo Andiamo qua Ma io ho fatto la strada a contrario Per andare a prenderlo Invece stava qui Vabbè comunque Andiamo A completare la missione Allora Oh Cos'è questo Che succede laggiù Mia 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 Miautista Perché gli agiti Come se avesse le pulci Io sono un conducente Della gattovana Oggi stavo guidando Come al solito Quando all'improvviso È spucato Una Yang Tutku Mi ha fatto quasi Perdere il pelo Dalla paura E poi ha distrutto La mia gattovana Col suo brutto becco Non si può lavorare così Gente Qui Questa gente Che lavora Ha un lavoro serio Deve campare No qui In sopra i peli Non perdere la calma Amicetto La mia gattovana Ha perso una ruota Era un gioiello Della tecnica E ora Quei brutto Yang Tutku Ha rubato la mia ruota E se l'è svegnata E per giunta Questo Yang Tutku È così tosto Che lo chiamano Il veterano Vive là fuori Sull'arrivo opposta Del lago Per favore Attenti Non lasciarti La belliccia Tranquillo Non c'è nulla da temere Sull'arrivo opposta Del lago Ok Zampe in spalla Socio L'arrivo opposta Del lago Non c'è problema Posso brutto Ah pensavo brutto Allure Devo fare giro lungo Perché non posso Ancora nuotare Non ho un mostro Che mi permette Di nuotare Anche perché Non penso che Basta nuotare Per arrivare Poi Dove devo arrivare Comunque Qui abbiamo Dei Calbis Che mi l'ha citato Niente Non mi lascia Niente Nessuno Grazie Belli amici Che siete Eccolo qua Va E io Mi devo Ah mi devo buttare Per forza Ok Ah c'è la stradina Qui vai C'è il sentiero Scendi però dai Quel mostro Che avanti Deve essere Quello che chiamano Il veterano Solitamente Degli Unput Q Sono Tewidi Ma questo È proprio Un'area Arrogante Non credo Che ci permettere Di andare Via Adesso Pronto All'azione Socio Mi chiedo perché Lo schermo Tremi Quando inizia Un combattimento Ma comunque Ma è grosso Ecco perché È veterano Quindi lui È un meccane Del deserto Cioè È talmente Grosso Ha Testa Boh Testa Che strano Puoi scegliere Dove colpire Stavolta Puoi attaccare Entrambi Ma Attacchi a partire Il corpo Danneggiano Il tutto Proviamo a colpire Le parti Del corpo Dopo che le parti Del corpo Cadono Che possono Essere Accolte Possono Rapprendere La battaglia Posso rendere La battaglia Più facile Non sto Leggere Lui 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 Mi frega Quindi Contro di lui Devo andarci Di potenza Oggetti Devo curarmi Ok Ci siamo Palla di fuoco No Grande Allora Andiamo di Potenza Allora No vabbè Ora ho staccato Per sbaglio Comunque Attaccare le parti Del corpo Tipo la testa Quando le parti Cadono Diventa più facile Poi attaccare Mi cadde La testa Non è una bella Ma perché Perché cambia Il suo stile Di attacco Non è giusto Tocca LR Alternativamente Ok Ok Non so quanto rumore Abbiate sentito Ma c'era C'era Un bel po' di rumore I tasti LR Fanno un bel po' di rumore In sella Socio Allora Abilità legame Sulla testa Magari serve a qualcosa Ah no però Sono scemo io Lo Yankut Q Probabilmente È resistente Al fuoco Anche se Gli ha fatto Un bel danno È colpito La testa Ah ah Eh va bene Ne abilità Colpo superiore Ah no Monsti Se io cambio No non posso cambiare Ah cambia Monsti con la Y Certo No sono deboli Questi Non è velocidrome No questi qua Sono tutti quanti Più forti Andiamo un po' Col velocidrome Dai Attacco di potenza Si rifa tecnica Allora bene No velocidrome Fa palla di fuoco Perché non ve lo Non so cosa fa Fino a che non Non faccio l'attacco Quindi è normale Che io non mi sbagli A premere A scegliere Non a premere A scegliere Da tecnica Velocità E potenza Si sta ritirando Quindi è missione Compute Pensavo fosse Più difficile Becco gigante Grande Due addirittura Potrebbe servire Per fare delle armi Il Yankut Q È scappato È quella che chiamano Ritirata nel gergo Dei rider Ma puoi inseguirlo Dirigiti verso la tana di mostro Sulla mappa Scommetto l'ultima ciambella Che troveremo lì La ruota della gattavana Che cerchiamo Alcuni mostri Fuggono dopo essere stati colpiti Da una palla pittura Forte Allora il problema è solo uno Io posso scendere da qui E andare nella sua tana Ok Ed è un buon modo Questo Quando il mostro Si ritira per prendere anche Le sue Le sue uova Ah qua Eccola qui questo Aspettavo un attimino Le ossa Guarda quelli come si picchiano Accidenti No ha vinto il veloci prei No che frega tu Qui si è compenetrato un stagno Ma tu guarda Non c'è posto che tenga Questi si picchiano sempre Comunque Quindi ora ho la possibilità Di prendere un uovo Di Yankutku Ma a me non interessa L'uovo di Yankutku Eccolo E' lo Yankutku Che cercavamo Stai attento I mostri feriti Non hanno nulla da perdere E possono essere feroci Quindi devo sfilarlo Per forza La pena E' arrabbiatissimo Come toccare Usare l'abilità legame Tecnica Ok quindi vinco Per fortuna In realtà Col binocolo Posso vedere Quello che farà Nel turno successivo Ma è binocolo E monouso Quindi Niente Ancora L'ho visto Che si poteva comprare Ma non ci andava Di spendere i soldi Per Un oggetto monouso Per poi Ancora non siamo In territori difficili Comunque E' velocità Lo sapevo Ah però testa a testa Col mio Yankutku Grande E' Abilità No Si posso farne invece Vai Grande Bella Sì A posto Vinta Sì vabbè Lui attacca il mio Però gli attacco Lui con potenza Vado Non serve Niente Non serve neanche più Attaccare Dimentico sempre Che prende comunque Un piccolo danno Ma perché Era in grado D Cioè E' stata facilissima Sta lotta Arzuros Ha preso salto Violento Saccafiamma E' piena di polvere Infiammabile Organo interno Di un certo Mostro Siamo riusciti a sconfiggere Il veterano E' bello Estrore A tutti gli effetti Vero Mi sento Magnificamente Sai Ah e questo cos'è E' morta della cattovana Il codicente della cattovana Sarà raggiante Quando gliela riporteremo Sì Però Prima di tutto Sarebbe un vero spreco Non prendere un uovo Mentre siamo qua Sì E' quello che voglio fare Prendere un uovo Anzi guarda Stavolta raccolgo tutti gli oggetti Perché proprio Me la voglio godere Anche le uova Anche le ossa Ora Ah Carcassa di Weaver Allora Vediamo un po' Che uova abbiamo qua In genere io cerco sempre Qualche uovo Però quello mi piaceva No Cambiamo Questo Mi ispira questo Quello flutto Vabbè c'ha le ali Giustamente Ci sai Plana E ci siamo allora Dobbiamo tornare però Alla miniera E dare la ruota Al Gatto autista Miau Grazie miau Ille Ora posso Verrare la mia Cattovana Grazie per l'aiuto Se ti serve la cattovana Non hai che da chiedere Salta su Ti porto dove vuoi Fa proprio le fuso Ora che le abbiamo Riparato la cattovana Mi porto al villaggio Forza Sare di su Bello Questo mi piace Ma Ci può portare Tipo da villaggio A villaggio Oppure anche in posti Ah ci sono Ci sono i chioschi Beh Però ci permette anche Di salvare Andiamo al villaggio Di Hakum Vai Torniamo a casa Hello Guarda qui che roba Ehi Grazie per aver soffritto Del servizio Mi aggoderò Con altri miei autisti Così sarai libero Di usare tutti i chioschi Grazie Ce n'è persino Una qui nel villaggio Perfetto Allora Prima di andare a parlare Col tenente Bisogna Schiudere L'uovo raro Che era questo Se non sbaglio Avevo Sì Tana mostro Raro Vediamo un po' che esce fuori Un altro Yankutku Però È diverso il colore No Non mi pare diverso Oddio Mi sembra No Non è Più Forte È uguale All'altro Però Tengo lui In squadra Per il momento Poi magari Oh Se schiudo Devo vedere un attimo Una cosa Prima Prima di Schiudere altre uova Ho preso riposo Per ricaricare i punti Salute Yankutku Beccata furiosa Vi dà la spada difesa Ottimo E da questo qui Che esce Questo era quello Che mi interessava Più di tutti Sinceramente Oltre a colorare Un altro Yankutku Potenzio L'armatura Di genie È a livello 2 Semplicemente Non è che cambia Per il momento Pugnale del cacciatore Non ha materiale Te pareva Va bene Direi che Per questo video Allora è tutto Completiamo la missione Allora Si è fatto un ottimo lavoro Grazie Vai a fare il resoconto A capovillaggio Beh ci andiamo La prossima volta Perché non ho voglia Di sentir parlare In rima Il vecchietto Allora di modo Per questo video è tutto Vi ringrazio Per averlo seguito In descrizione Trovate come sempre Tutti quanti Link utili Per sicuramente Dove vi pare Se vi va E ci vediamo Ovviamente Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.